...dell'Econo Festival in collaborazione con Banca Generale ovviamente. Luca Pellegatta è il Tredugnon, essendo rotariano, che ci ha consentito di avere questa possibilità. Il prestigio dell'essere ospiti di un evento artistico importante come l'Econo Festival è sicuramente per noi motivo di onore e d'accordo con la spinta di Luca e il club è stato molto felice di aderire a questo tipo di proposta, con questa serata cercheremo di raccogliere i fondi per questo importante service, come diceva Dottor Stancanelli, relativo all'autismo. Quindi sappiamo, proprio in questi giorni è stata la giornata mondiale dell'autismo, tra l'altro e c'è stato, citavo prima, un bellissimo film che ha fatto Gianluca Nicoletti che è andato su Sky e che mi invito a vedere perché veramente è molto toccante anche, che ha un figlio autistico, giornalista di solo 24 ore e sono conosciuto anche a livello televisivo. Quindi, dicevo, in provincia di Como i Rotari, a cominciare da quello di Erba che è stato il, come dire, l'iniziatore e precursore di questo tipo di iniziativa, si sta occupando della formazione, infatti il service serve proprio per raccogliere fondi per la formazione relativa agli insegnanti della scuola infanzia e primaria che sono, come dire, le prime sentinelle che devono rendersi conto di avere a che fare con bambini che denotano una problematica relativa allo spettro autistico.